Ci sono delle regioni in cui è prevista una totale esenzione del pagamento del bollo auto per particolari tipologie di vetture. Nel dettaglio si tratta della Lombardia in cui non si deve pagare la tassa se si possiede un'auto a gas, GPL o metano e il Piemonte in cui sono esenti al 100% le auto con impianto GPL di fabbrica. 5 anni di esenzione anche per chi ha installato questa tipologia particolare di alimentazione nelle altre regioni non si parla di agevolazioni totali ma di uno sconto del 75%. Ad esempio la Lombardia prevede anche 3 anni di esenzione dal pagamento se si rottama un veicolo che è nelle categorie da Euro 0 a Euro 3 e se se ne acquista uno poco inquinante Euro 5 o Euro 6. Tra le varie novità per gli automobilisti del 2019 ci sono anche le auto elettriche. Godono di un'esenzione totale per 5 anni e di una riduzione del 75% dal sesto anno. Anche per le auto considerate storiche che hanno almeno 30 anni non si pagherà il bollo auto ma solo una tassa di circolazione. Le ibride comprate quest'anno avranno 3 o 5 anni di tassa automobilistica gratuita a seconda delle regioni. Sono state anche introdotte delle modalità di pagamento particolari che permettono a chi non è esente di pagare il bollo auto con uno sconto del 10%. E per chi è interessato a conoscere l'importo da versare del proprio veicolo può andare sul sito dell'ACI e sotto al video trovate il link e sulla destra dove è indicato dalla freccia rossa dovete cliccare sulla voce calcola il bollo. Dopodiché vi basterà inserire i dati precisi del vostro veicolo e poi inserire il codice CAPTA e cioè quei numeri in blu. Andate su calcola e vi comparirà la somma da pagare. Vi ricordo che la fonte di questo video è l'articolo che trovate su Virgilio Motori e vi consiglio di leggerlo sotto al video trovate il link e se avete apprezzato questo video potete ricambiare iscrivendovi al canale e lasciando un bel like. Se avete qualche domanda me la potete fare su Instagram Ubaldo.info e su Telegram Ubaldo.info. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!